E' una sciacca che viaggia sulle ali dell'entusiasmo, quello che oggi cerca altri tre punti a Palermo sul campo del CUS. Per la terza giornata del campionato d'eccellenza Gironea, infatti, la squadra del tecnico Totò Burculeri è impegnata nell'anticipo, con l'auspicio di proseguire la buona striscia positiva avviata dall'inizio della stagione. L'unità 6 sciacca proviene da due vittorie consecutive in campionato e dal passaggio del turno in Coppa Italia di Lettanti. Si preannuncia probabilmente una partita difficile perché anche il CUS Palermo è a punteggio pieno, dopo aver vinto le prime due partite del torneo. Oltre allo sciacca, oggi si disputeranno altri due anticipi, quello tra Parmon Valle e Mazzara e quello tra Castellammare e Don Carlo Misilmeri. Gli altri incontri, invece, sono in programma tutti domani pomeriggio. Il presidente dell'unità 6 sciacca, Gioacchino Settecasi, intanto ai nostri microfoni, annuncia che la possibilità di acquisire gli abbonamenti è stata prorogata fino al prossimo 2 ottobre e invita tutti gli appassionati a seguire la squadra della propria città. Noi dall'inizio anno che stiamo cercando di costruire una buona squadra, una squadra che possa far divertire il pubblico, la città e noi stessi che alla fine siamo qui quotidianamente a cercare di fare stare bene i nostri calciatori. È una rosa importante, è una rosa che certamente è stata fatta nel migliore dei modi. Fino a qualche giorno fa abbiamo fatto gli ultimi due innessi, innessi di categorie superiori, mirati, perché non abbiamo preso giocatori a casaccio, ma sempre per la questione del budget noi che vogliamo rispettare abbiamo fatto gli acquisti mirati e utili. Ne approfitto e faccio un appello veramente alla città. Come ho sempre detto questa città vive di pubblico, vive di abbonamenti e vive di sponsorizzazioni. Noi ce la stiamo mettendo tutta quest'anno e crediamo di fare bene. Crediamo che dopo due anni di eccellenza questo possa essere un anno dove possiamo certamente piazzarci in una posizione molto buona e comunque far divertire il nostro pubblico. Però per far ciò abbiamo bisogno che la città risponda, abbiamo bisogno che la città possa e venga la domenica allo stadio ed è anche per questo che fino al 2 ottobre continueremo la nostra campagna abbonamenti. Gli abbonamenti hanno un prezzo di 50 euro ingratinato e 100 euro in tribuna. Io ho sempre detto anche per una questione di dare un contributo a questa società e a questi calciatori. Poi magari molti alle volte non vengono nemmeno a vedersi la partita, altri sì, però se la vediamo tutti sotto la forma di contributo, chi magari noi da una parte cerca di mettere qualcosa in più alla città, anche con il semplice abbonamento può contribuire, credo che possiamo tutti insieme, perché come scrivo sempre io su Facebook, tutti insieme ci possiamo riuscire, altrimenti diventa difficile. La domenica allo stadio ci diverte molto, io ho sempre detto che le famiglie qui vengono veramente tantissime famiglie e tantissimi bambini, perché è un ambiente bellissimo, un ambiente pulito, un ambiente dove si ci diverte e quindi che benvengano le persone allo stadio e che deve essere sempre una domenica di festa.